. Eliminato ballando con le stelle del 17 marzo, ecco chi è stato fatto fuori. Ieri sera 17 marzo in Prime Time su Rai 1 è stata trasmessa la seconda puntata di Ballando con le stelle 2018, il lortunato varietà del sabato sera condotto da Millie Carlucci. Una puntata decisamente molto ricca di colpi di scena che questa volta è stata caratterizzata dalla prima eliminazione definitiva dalla gara. La scorsa settimana, infatti, Millie Carlucci scelse di non eliminare dalla gara nessuno dei concorrenti. Sebbene Leonora Giorgi venne eletta la peggiore della serata ed ha preso parte al secondo appuntamento con ben 10 punti di penalizzazione. Scandalo a Ballando con le stelle, bufera omofoba su Giovanni Ciacci?. Cos'è successo in questa seconda puntata di Ballando con le stelle di ieri sera?. Il racconto dalla gara rivela che nel corso della trasmissione cè stato un momento particolarmente imbarazzante dopo l'esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. I quali sono stati criticati duramente da Ivan Zazzaroni dopo l'esibizione di ieri sera. Il giudice di Ballando, infatti, ha criticato nuovamente la coppia composta da Ciacci e Todaro affermando che non voleva dare un voto alla loro esibizione perché non gradisce il fatto che due uomini si cimentino assieme in un'esibizione. Parole decisamente molto forti che hanno statenato grandi polemiche non solo tra gli altri membri della giuria ma anche tra il pubblico social che segue e commenta la trasmissione da casa. Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2018 di ieri 17 marzo?. Sul web, infatti, si è scatenato un vero e proprio putiferio nei confronti di Ivan Zazzaroni che ha umiliato in diretta Giovanni Ciacci. D'Angoli questo zero non perché non avesse ballato bene bensì perché non gradiva il fatto che a cimentarsi in una gara da ballo fossero due uomini. Parole sciocche hanno avuto un peso molto importante dato che la padrona di casa Milli Carlucci non ha proferito parola di fronte al rifiuto di Zazzaroni di esprimere il suo giudizio. Ma torniamo alla gara di ieri sera di Ballando con le stelle 2018, chi è stato il concorrente eliminato definitivamente dalla trasmissione di Milli Carlucci?. Il riassunto ufficiale della trasmissione rivela che ad avere la peggio in questo secondo appuntamento con il reality show è stato Don Diamant, la star della soap opera Beautiful fatto fuori dal televoto. Don, però, a questo punto potrà puntare sull'atteso ripescaggio che si terrà verso le puntate finali dello show. .